Prima del coffee break dicevo c'era spazio per eventuali vostre domande ai relatori. Se qualcuno desidera intervenire può fare domande. Ecco, microfono. Mario Colavita. Una domanda al dottor Baione. Il sistema degli aiuti di portafoglio, delle garanzie di portafoglio, era già previsto in una o due finanziarie di quasi dieci anni fa. Dopodiché fu abbandonato perché la Confindustria e altri soggetti imprenditoriali rifiutarono quel sistema e chiesero che il fondo centrale continuasse ad erogare garanzie 1 a 1. Si sente meglio? Che cosa è cambiato da allora? Perché allora Confindustria e altre organizzazioni ideatoriali non accettano quel sistema mentre adesso lo stanno accettando? Guardi, non posso dare una risposta alla sua domanda perché non conosco la parte precedente. Tra l'altro non ho memoria né conoscenza del fatto che ci siano state nel passato previsioni normative che consentivano la concessione della garanzia sul portafoglio. Che poi allora eventualmente siano state le associazioni di categoria a non gradirla, può anche essere, non lo so. Quello che le posso dire è che nella costruzione della nuova regolamentazione abbiamo avuto perlomeno nella fase di definizione del testo del decreto Il consenso quasi generale sia di Confindustria che delle altre organizzazioni di rappresentanza di imprese con la manifestazione delle difficoltà che avevo già anticipato prima per quando riguardava il sistema dei confidi di accedere ad una modalità della controgaranzia come è stata definita in quel decreto. Per il resto oggi è accettata da tutti l'operazione con tranche and cover del portafoglio. Volevo solo un chiarimento se in questi portafogli da costruire era già ipotizzato il tempo. Parliamo del nuovo? Qual era il tempo che il ministero ha ipotizzato per la costruzione di questi nuovi portafogli? Nel decreto è previsto, sono 18 mesi la ramp up del portafoglio. Poi con una possibilità eventuale, se ci sono stati eventi straordinari, di poter concedere una proroga. Ma il tempo di ramp up fissato massimo è di 18 mesi. Ci sono altre domande? Ecco, sì, lassù. Salve, si sente? Multifidi, Adamo. Una domanda sempre sull'operatività del fondo. Si parlava che nelle nuove disposizioni già è previsto che venga reso palese per il socio i vantaggi che ne derivano dall'accesso al fondo nel caso di garanzia diretta e controgaranzia. In questo caso i vantaggi devono essere i medesimi offerti da parte dell'Istituto di Credito nel caso di garanzia diretta e controgaranzia, cioè non vorrei che si venga a creare la situazione in cui nel caso di garanzia diretta l'Istituto di Credito offra una scontistica in termini di tasso di interessi, nel caso di controgaranzia, visto che il confidi a dover evidenziare vantaggi nei confronti del socio, il tasso poi applicato alla fine sia superiore, creando concorrenza pure tra i due... Chiariamo nel senso che il vantaggio che deve essere reso esplicito all'impresa che di fatto è il beneficiario finale dell'intervento pubblico con la concessione della garanzia è relativo ai due intermediari finanziari che possono attivare la richiesta. Nel caso di garanzia diretta è la banca che deve dare dimostrazione di quali sono le condizioni alle quali concede il finanziamento nel caso di intervento del fondo e quali sarebbero o sono le condizioni con le quali concede il finanziamento in assenza dall'intervento del fondo. Quindi sarebbe stato un tasso diverso, un maggiore o minore volume di credito concesso e così via. Nel caso della controgaranzia non sono presi a riferimento i valori del finanziamento sottostante la garanzia del confidi, sono presi in considerazione i dati del costo e dell'intervento del confidi nei confronti dell'impresa. Cioè qual è la commissione che paga, ha un costo maggiore o minore, ha maggiori possibilità di accedere o non avrebbe avuto maggiore accesso per quell'importo alla garanzia del confidi. ma non c'è un confronto con il valore delle condizioni fatte e concesse dal finanziatore nei confronti dell'impresa. Si metterà a confronto gli interventi dei due soggetti per le due condizioni che possono praticare alle imprese. La concessione della garanzia del confidi e la concessione del finanziamento della banca. Altre domande? Allora direi facciamo il coffee break di un quarto d'ora e poi riprendiamo con la seconda sessione.